E' stato dimesso il 15enne ustionato da una lattina piena zeppa d'acito. A dare il via libera nel weekend sono stati i medici del reparto di chirurgia generale di Santa Maria della Speranza di Battipaglia, diretti da Francesco Larocca. Intanto gli agenti della Polizia di Stato portano avanti le indagini per risalire l'autore del gesto. L'inchiesta prosegue con il supporto delle videocamere di sorveglianza e delle attività commerciali della zona. Gli inquirenti dovranno stabilire eventuali correlazioni con un altro episodio che si è verificato sabato notte a via Bozzin. Sull'auto di una coppia hanno gettato dell'acido. Erano le 11.30 di mercoledì, il 15enne passeggiava via Rosaiemma in compagnia di due amici. A terra c'era una lattina di una Pepsi Cola con un barattolo d'alluminio da 330 mm. Distinto il giovane sferra un calcio alla lattina dalla quale è schizzato fuori dell'acido che gli ha procurato ustioni in varie zone del corpo. Grazie per la visione!